Un noto commercialista e consulente fiscale di Gela è finito nel mirino della Direzione Investigativa Antimafia. Gli inquirenti, infatti, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca definitiva emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta della Procura della Repubblica di Gela. Il professionista è risultato gravato da pendenti penali per gravi illeciti fiscali commessi in passato. Nel 2010, di fatto, il commercialista è stato condannato a due anni e un mese di reclusione, nell'ambito di un'indagine della Procura di Brescia per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e indebite e compensazioni tributarie. L'odierno provvedimento è il risultato di una meticolosa attività investigativa della DIA risalente al 2009, che ha consentito di riscontrare la pericolosità sociale del soggetto. Profilo riscontrato anche dalle indagini patrimoniali, che avrebbero fatto emergere la sproporzione fra il suo elevato tenore di vita, i redditi dichiarati e i conseguenti investimenti fatti. La confisca, il cui valore complessivo supererebbe i 4 milioni di euro, ha interessato una lussuosa struttura agrovenatoria a Piazza Armerina, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, un salone ristorante e 7 residenze frutto del restauro di caseggiati dell'Ottocento. 74 beni immobili, fra cui fabbricate e terreni, quote societari in due società di Gela, autoveicoli e rapporti bancari.